Estorsori sì, mafiosi no. Una differenza non da poco, soprattutto per chi, come l'Associazione Antiracket, denuncia da tanti anni le pressioni della criminalità sugli operatori economici. Anche questa volta una sentenza ha sancito che a Vieste c'è sì un gruppo che pretende il pizzo dagli imprenditori, ma non è strutturato in modo tale da imporre il proprio predominio sul territorio con metodi mafiosi. Lo hanno stabilito i giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Foggia, che hanno condannato tre persone per le estorsioni commesse nel Comune Garganico a partire dal 2008 con danneggiamenti, attentati esplosivi, furti e minacce. Il principale imputato era il boss Angelo Notarangelo, per il quale il PM della DDA di Bari, Giuseppe Gatti, aveva chiesto la condanna a dieci anni, non luogo a procedere nei suoi confronti, dato che l'uomo è stato ucciso lo scorso 26 gennaio con una pioggia di proiettili. Inflitti sei anni a suo cugino Luigi, mentre cinque anni ciascuno hanno avuto suo fratello Giuseppe Girolamo Perna. I giudici però non hanno riconosciuto l'aggravante mafiosa, come già accaduto lo scorso anno nel processo denominato Medioevo, in cui il gruppo guidato da Angelo Notarangelo fu condannato per altre estorsioni e gli imprenditori turistici. In aula, anche questa volta, erano presenti l'associazione antiracket di Viesta e Foggia e i vertici regionali e nazionali guidati dal presidente onorario Tano Grasso. Rispetto alla sentenza Medioevo c'è un fatto in più, due fatti in più. Da allora c'è stato un omicidio di mafia, un tentato omicidio di mafia, cioè il metodo mafioso cosa ci vuole di più per riconoscere questo metodo mafioso.